Sdraiati a terra. A pancia in su e comincia ad abbandonarti nel rilassamento. Concentrati sul tuo respiro di pancia, naturale, ritmico e costante. Sei sempre più rilassato e concentrato nel respiro. E mentre fai questo, richiama alla mente l'immagine di una stella luminosa. Senti il flusso del tuo respiro che attraversa tutto il corpo, attraverso i canali energetici, fino ad incontrarsi nuovamente nel tuo centro, nell'ombelico. Il flusso del tuo respiro, calmo, ritmico e costante, stai ripulendo tutte le energie di scarto che hai accumulato per mezzo del tuo atto di concentrazione. Con una profonda esalazione, concediamo al corpo l'opportunità di rilassarsi ancora più profondamente. La tua attenzione si sposta, si sposta sempre più all'interno. Ogni tensione viene rilasciata. Immagina il corpo libero di affondare nella terra per lasciarsi purificare dalla forza. Il respiro è sempre più ampio e libero di scorrere all'interno. E tu lo osservi per qualche istante, senza condizionarli in alcun modo, lasciando il suo ritmo naturale. Ad ogni esalazione il corpo è libero di distendersi e di abbandonare ogni rigidità dalla nuca. Il collo. La schiena. Le gambe. Manteniamo la consapevolezza della pratica di yoga nidra. Ti senti al sicuro nel tuo spazio sacro. Ti senti quieto e lascia andare tutto quello che ti appesantisce. In questo modo, la tua energia può fluire e nutrire ogni tua cellula. con una nuova e profonda esalazione, lasci scivolare la tua consapevolezza al centro del cuore. Fai in modo che raggiunga il centro del cuore in profondità. Ripeti nella tua mente, io sono il mio cuore. Sono il mio cuore sincero e aperto. Dai spazio per qualche istante ad emozioni e sensazioni che emergono spontanee dallo spazio del cuore. Accogli con gioia la luce del tuo maestro interiore. Muoverai ora la luce della tua consapevolezza in un viaggio alla riscoperta del corpo. Il tuo corpo resterà quieto, immobile, mentre la tua consapevolezza si muoverà attraverso i suoi spazi. La luce della tua presenza mentale brilla in ogni punto del corpo. Come a risvegliare infinite stelle splendenti, il tuo corpo si trasforma in una costellazione, avvolta da un cielo notturno. Con una nuova e profonda esalazione immagina di nutrire ogni stella e di farla risplendere in ogni punto del tuo spazio sacro. Sulla sommità del capo, al centro, tra le sopracciglia, nella gola, al centro delle clavicole. Lascia che la luce di queste stelle, attraverso la tua presenza mentale, ti splende in tutto il braccio destro, dalla spagna alla punta delle dita. Lascia ora che la luce della tua presenza mentale, ti splenda allo stesso modo sul braccio sinistro, dalla spagna alla punta delle dita. La luce della presenza mentale si sposta ora rapidamente al centro del cuore. Immagina una stella luminosa risplendere al centro dello sterno. Tutto il tuo torace risplende mentre si rigenera attraverso la sua luminosità. Ora la luce della tua consapevolezza mentale si muove fino a risplendere su tutto l'addome. Tutto il tuo addome è splendente e luminoso. La luce della tua consapevolezza si sposta ora e sulla gamba destra, attraversandola completamente. Dall'anca alla punta delle dita, in uno splendore rigenerante. Allo stesso modo ti sposti sulla gamba sinistra e la luce della tua presenza mentale avvolge tutta la gamba dall'anca. Alla punta delle dita. Con una nuova e profonda esalazione lascia che la tua consapevolezza salga nuovamente fino all'ombelico. e ancora un'ispirazione torni ad abitare lo spazio del cuore. Mantieni la tua consapevolezza sulla pratica di yoga nidra ripetendo mentalmente Io sono il mio cuore, sono il mio cuore sincero e aperto. Mantieni l'immagine della tua luminosità in tutto il tuo corpo, in questo cielo notturno, così tante stelle lo illumina. Tutto il tuo corpo nella sua interezza ne è cosparso, una fitta rete di stelle luminose che ti rigenerano, in profondità, in ogni tua cellula. Ti senti sempre più consapevole. Con un nuovo profondo inspiro ogni stella si apre e si espande la vastità del cielo. Esalando le stelle cadono da questo cielo formando una trama armoniosa all'interno del tuo corpo. Ad ogni ispiro lascia che la luce è rinnovata della tua consapevolezza. Percorra ogni centimetro di questa trama. Esalando percepisci il tuo corpo rigenerato, sano e pieno di vitalità. Osserva il percorso del tuo respiro, libero di fluire nel tuo spazio sacro. Ti senti integrato con tutto l'universo, libero di esplorare e di indagare la parte più intima della tua coscienza. Assapora ancora per qualche istante la quieta del corpo adagiato sulla terra, nella sua interezza, nella sua luminosità, nella sua vitalità. Avvolto dal tuo tiepido respiro che ora, dopo questa pratica, è ancora più libero di scorrere dentro di te, nel tuo spazio prezioso e protetto. Lentamente riprendi consapevolezza con lo spazio dell'ambiente attorno a te. Cerca di trasportare nel quotidiano questa profonda connessione che hai acquisito tra il tuo corpo e il tuo respiro. Scegli di coltivare questa connessione, di percepirla come un dono prezioso da preservare e nutrire ad ogni nuovo passo. La pratica di yoga nidra ora è completa. La pratica di yoga nidra ora è completa. La pratica di yoga nidra ora è completa. Grazie a tutti.